Un invisibile nemico di Pina Mastroieni di Camporosso in provincia d'Imperia. Un invisibile nemico è tra noi. Muove i felpati passi. Non ha pietà. La paura soccombe per sconfiggerlo. Come? Restare in prigione in quarantena poco servirà. L'aria satura dell'avaro profumo di fiori recisi. E Satana, il potente, sta a guardare. Scannandosi l'ambita poltrona dello scettro potere. Storia vecchia da millenni. Soccomberanno i più deboli, i più forti. Continuerà la stirpa. Intanto, guardiamo questa primavera, forse per molti, l'ultima. Grazie. Grazie. Grazie.